No dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente, mi si è accesa, e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome, l'indirizzo, di che prezzo, si è tranquillo, non sono pazzo, questa cosa, e ormai tu se ripetersi non puoi, oh no. No dottore, no dottore, quel che dice, non mi piace, l'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. Posso chiamare un taxi tardi e devo tornare a casa mia. E' già sera, e quando è sera, lei mi vuole accanto a sedi, è un'abitudinella, nostra quasi una malattia. Fare insieme, sempre insieme, sapo me. No dottore, non è vero, sono rincuso, io rincuso, ma è un abuso, lei lo faccio, lei lo faccio, uno zioe. No dottore, 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 Posso chiamare un taxi taxi e devo tornare a casa mia E già a sera, e quando è sera, lei mi vuole accanto a sé E una biturinella nostra quasi un amore Estare insieme, sempre insieme a sa come Oh 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 Grazie a tutti Grazie a tutti